Come è stato tornare qui a Notaresco dopo la salvezza dello scorso anno? È sempre bello tornare qui, l'anno scorso è stato molto duro però c'è stato un lieto fine a Roma contro Roma City quindi è stato sempre bello tornare qui e trovare alcuni compagni l'anno scorso è stato un campo molto difficile, lo sapevamo, Ale e Bruno preparano bene le partite quindi è un punto che ci sta un po' stretto per commentare la partita però dai va bene così Che partita è stata la tua e quella della Samb? Io penso che i primi 20 minuti l'abbiamo prestato bene, loro non riuscivano a uscire poi hanno preso un po' le misure però il primo tempo ci sta il pareggio poi il secondo tempo penso che l'abbiamo messo sotto, c'è mancato l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro doveva essere un po' più cinese, tutto porta però dai, testa a Matese la domenica prossima Qual è il tuo obiettivo stagionale di squadra e quello personale? Il mio obiettivo è mettermi a disposizione della squadra, mi faccio sempre trovare pronto poi quello che viene, viene, io spero che di gruppo arriviamo fino in fondo non lo voglio dire perché sono un po' scaravandico però spero di arrivare fino in fondo con questa squadra con questo tipo seria bellissimo quindi speriamo bene dai Insomma siete ancora imbattuti, questo vi pesa un po'? Ma no dai, anzi ci dà ancora più carica perché sappiamo che siamo la squadra da battere anche oggi l'abbiamo dimostrato su un campo che sono penso 6-7 partite che non perdo neanche loro quindi sappiamo la nostra forza e quindi dai continuiamo così